Non mi prenderanno, non mi prenderanno. Chi c'è? Sei tu, Nicchia, e tutti voi ascoltatori della Ciotacciara. Non ve lo dovremmo dire, non ve lo dovrai dire, ma abbiamo trovato qualcosa, qualcosa di importante. Abbiamo trovato la pietra filosofale e ce la vogliono portare via. Sono i templari, le scechimiche, le robe finanziarie, ma non la faranno. Non la faranno e non mi scopriranno con questo, non mi scopriranno e non la faranno. È mia, tutta mia, il mio tesoro.